Grazie a tutti. Le iniziative mai fatte, quindi così, da sperimentare. La partecipazione è stata tanta, i partecipanti mi sembrano interessati, i temi sono di rilievo. Io credo che stiamo avendo più segnalazioni sui piccoli temi, quelli che vivono la criticità ai cittadini tutti i giorni, la quotidianità, che su grandi temi quelli urbanistici. Ahimè, temo anche che prossimamente le tematiche saranno più che sul versante dell'urbanistica o della viabilità sul versante sociale, perché è fuori di dubbio che stiano nascendo molte nuove povertà. Il tema era generale ed era riqualificazione urbana, portaci le tue idee. Ai cittadini si chiedeva di proporre delle idee, fare delle proposte su che cosa intendessero come qualità urbana. Colati di cemento c'è, ad esempio, un tema sulla limitazione dello sfruttamento del territorio, però i temi mi sembrano, diciamo, tagliati a esigenze pratiche. Gli orti urbani, ad esempio, mi sembrano molto interessanti. Le piste ciclabili non sono un tema da sottovalutare, in realtà dove le piste ciclabili non sono tanto presenti. La popolazione va promossa, le assemblee di quartiere, le prime assemblee di quartiere, in una notte di nubifragio, hanno visto presenti 290 persone in tutta Savona e oggi sono iscritti tra sessione del mattino e sessione pomeridiana 208 persone. Io direi che la cittadinanza per questo ha dato prova di maturità, ora sta a noi amministratori. Sicuramente sì, insomma, 200 persone sono un bel numero. Sono previsti quest'anno tre Open Space Technology, con la chiusura di dicembre si potrà avere già una risposta definitiva. Una prima risposta direi che la si possa avere a ottobre-novembre in sede di bilancio, perché magari molte ipotesi che possono uscire da Open Space Technology possono andare a incidere nel bilancio di previsione per l'anno prossimo. Possiamo, la gente oggi con la partecipazione può indirizzare anche le scelte strategiche dell'amministrazione, soprattutto anche riguardo al bilancio, ai lavori pubblici e così via. L'amministrazione ha previsto altri due incontri di questo genere, ha previsto altri due Open Space Technology, uno credo intorno a ottobre e secondo verso dicembre. Le altre proposte che verranno fuori oggi dalla Open Space Technology saranno valutate da un forum tematico che guarderà se queste proposte sono realizzabili. Se non sono realizzabili dovrà dire la motivazione, cioè se per motivi di bilancio o per motivi normativi. Dopodiché tutto andrà nella giunta comunale, alla giunta comunale e lì diciamo che ci sarà da dare una prova di maturità politica, cioè la giunta dovrà far sì che le voci dal basso, i suggerimenti dal basso abbiano una continuazione con dei provvedimenti.